Si stava annoiando E allora è andato su Twitch A vedere qualche streamer italiano Con sai poca gente ogni tanto E c'era un ragazzo Che assomigliava incredibilmente a Ryan Reynolds Però non era lui Ma c'erano dei pixel così grossi Vabbè aveva la 7 mega Poveraccio quindi già tanto si riuscì a streamare E stava streamando Rust Non vi dico il nome ovviamente Perché magari non è il caso Non te lo ricordi comunque No me lo ricordo perché era facile Non con la I con la Y Va bene E allora E Gatto cerca di intrattenere Perché questo ragazzo aveva un piccolo problema Non parlava per tutto Aveva la webcam Ma non parlava per tutto il tempo Ma in realtà il tutto è iniziato Che eravamo zitti su TS Ognuno si faceva i cazzi suoi Io apro Twitch come al solito e guardo E sono rimasto completamente zitto A guardare questo Che completamente zitto Giocava Rust per 5 minuti In silenzio In silenzio Io ho sta idea che Se tu streami un minimo dei Perché se no che streami a fa? Mi sembra Cioè se streami con la webcam Perché tu puoi streamare quello che vuoi Anche tu fermo che dormi sulla tastiera No? Però se streami un gioco con la webcam Cioè non è che metti la webcam Perché mi immedesimo con la tua faccia Cioè lo devi fare perché Un minimo intrattieni dovresti No? E allora Quindi potete essere d'accordo o no Su questa cosa qui Però sai se metti la webcam Un po' logico deve essere E allora Gatto cerca di interagire con lui Facendogli delle domande random Per cercare di farlo parlare un pochino Perché non stava parlando con il suo Allora inizia tipo Che lavoro fai? Cosa vuoi fare da grande? Gli faceva delle domande un po' del cazzo Però per farlo parlare Che fai e belloni il tempo E lui rispondeva Vi giuro su Dio A monosillabi Ma tipo Ma no Neanche a monosillabi Sì no A monosillabi gutturali Eh? Leggeva Cioè Che tu se non leggeri la domanda Non sapevi neanche che cazzo fosse E faceva Boh sì Come il tempo E le risposte Eh l'altra volta Come il tempo Boh bellino Erano tutte così le risposte E poi finiva lì E bellino Fine Per due minuti stavo zitto Finchè non leggeva la domanda dopo E allora Gatto Gli ha scritto Ma in allegria Gli ha scritto Ma dai narra Proprio così Narrami qualcosa Sai Per fare un po' lo scemodo Gli ha detto Ma dai raccontami qualcosa Narrami qualcosa Dici qualcosa su di te Anche una scorregina Gli ha detto Qualcosì La risposta È stata Se non ti piace Vai via Io non sono Il pagliaccio Di nessuno Porca puttana E la madonna E c'era bisogno Di questa risposta Ci sono rimasto Abbiamo letto Abbiamo lacrimato Abbiamo detto No Boh Questa è la fine È la fine Dell'intrattenimento Questa è la fine Dell'intrattenimento Su Twitch Italiano Boh Andato Poi però Dopo essermi pulito Le lacrime Mi è sicuro Ho bagnato tutto Anche il letto No aspetta Devo Allora Devo Devo Spiegarti Spiegargli Non l'ha detto Con cattiveria Perché lui era Monotonale Lui era Fisso Guardava lo schema E non è neanche un brutto ragazzo Per dire Non era No perché non era un caso umano Non era Tipo Giuseppe Simone Che lo vedi e già capisce Che è una tragedia No lui era normale Che rispondeva Monotonale No Tutto E lui gli ha risposto Io ve l'ho fatta pure enfatizzata La tonalità Con cui l'ha detto era E se non ti piace Vai via Io non sono Il pagliaccio Di nessuno Questa è stata La tonalità Con cui l'ha detto Era Cortana No neanche Era GLaDOS No neanche Gli altri sono Molto più tonali E E da lì Allora Ci siamo letteralmente Innamorati Non siamo più Andati via Dalla live Perché poi lui Un po' Si è sbloccato Gatto iniziava A fargli le domande Abbiamo scoperto Delle cose Della sua vita Che Convive con la ragazza Che lavorava prima Non è vero Vive con sua madre Non sta Ah no è la ragazza Che abita da sola La ragazza doveva Tornare a casa E preparargli da mangiare Cosa mangi oggi Non lo so Quando arriva la mia ragazza Magari mi fa qualcosa No è quella La cosa strana È quella Che lui abita con la madre Ma poi quando torna La ragazza Gli cucina Non ho capito Però va bene No abbiamo scoperto Almeno un pochino di cose Che lavorava Non lavora più Che faceva magazziniere Però è che Il lavoro Non gli piaceva tanto Però si trova bene Con le persone Ha detto Vedi Questa è stata la frase Più lunga che ha fatto Non lavoro più lì Ma mi trovavo bene Con le persone Quando lo faceva Io gli ho buttata lì Guarda che io sono Un pezzo grosso Io sono famoso E la risposta E la risposta è stata Sì ho guardato È vero Va bene Grazie Perché poi Gatto Gatto Tra l'altro si è fatto Una mezza gaff Grazie mille Si è fatto una mezza gaff Perché lui all'inizio C'era uno in chat Del 98 Che scriveva Vi giuro su dio Le Le O senza H E senza 100 Tutte le cose così Tutte senza virgole Senza punti Tutte i fili Una merda E il gatto ha iniziato A scrivere all'inizio Un po' come questo qui E quello là che leggeva Diceva Scusa ma tu quanti anni hai E il gatto ha detto 17 Signore che è un uomo Per lei Oscuro signore Buon anno No E dice 17 Poi da lì si è evoluto tutto E il gatto ha iniziato A scrivere normalmente A fare la persona normale Quando hanno parlato Di relazioni amorose Gatto ha detto Cioè quello gli chiede Tu da quanto sei fidanzato E il gatto gli dice Da Sei anni Da sei anni E quando lo guarda Gatto gli dice Ma scusa Ma quindi tu eri fidanzato Da quando ne avevi 11 Perché gatto Si era dimenticato Che gli ha detto Che aveva 17 anni Sto coglione E quindi quello gli fa Ma come Sei fidanzato Da quando ne avevi 11 Sono tolto la maschera E ho detto Ma che io sono un pezzo grosso E lui era sagace E lui era sagace Perché lui Gatto gli ha detto Volevo Volevo dirti Grazie fette biscottate Volevo dirti una cosa Non ho 17 anni Ne ho 26 Ma che cazzo dici 23 Quanti ne hai Nano reottolo di me E gli dice Ne ho 23 E lui sagacissimo Gli ha detto L'avevo capito Con questa L'avevo capito Così Mamma mia Che persona Sì Martina E no Comunque Gli ho detto Opportunità della vita Se tu mi dimostri Che sei capace Di chiacchierare un pochino Se tu mi chiacchierai un pochino Mi intratieni Io ti giuro su Dio Ti spammo E ti faccio Ti faccio crescere un po' Adesso non è che gli ho detto Ti faccio diventare Lo streamer numero uno D'Italia Però L'avrei tweetato L'avrei ostato L'avrei spammato un po' E la risposta è stata Ha detto no Ha detto no Voglio farcela pian piano Ma non parli Non ha detto Non è che così No ha detto Sto crescendo Sto crescendo Ma non parli Nello stream Come fai a crescere Non parli Nessuno sa chi sei Nessuno sa Chi esisti Perché non parli Anche quando cliccano Vanno via Perché No Anche tipo Voglio dire Le stronzatine Quando ti sparano C'è stato un momento In cui lui Stava salendo una collina Qualcuno ha sparato E si è visto Il proiettile Che gli ha praticamente Tagliato i capelli Ha fatto v E ha schivato Il proiettile di culo Silento Non dice niente Gli sparavano alla schiena E non diceva niente Clic Clic Così Poi ogni tanto Tabava Leggeva i commenti I commenti più divertenti Sorrideva Richiudeva Non rispondeva Non rispondeva Io non sapevo più È per quello che Gli faccio le domande Del cazzo Perché alle frasi Che io dicevo Per coinvolgerlo Lui le leggeva Faceva un mezzo sorriso E richiudeva Sì Lui leggeva Tutti i commenti Perché poi Se era preso bene Iniziava Perché lui preveva Tab per leggerla chat No E si era preso bene Continuava a leggere Tutto quello che Gatto scriveva Ma non rispondeva più Cioè Leggeva Mezzo sorriso Con la bocca E basta È stata una bella mattinata Allora Andiamo Se non ancora iniziamo più Noi abbiamo passato 40 minuti così Queste sono le nostre mattinate Anche più di 40 minuti Mi sa Sarà un paio d'ore No forse un paio d'ore No però Scusa 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 Gatti facciamo